buongiorno a tutti allora tralasciamo il mondiale ne abbiamo già parlato già fatto il video spero che per mezzogiorno di nella giornata di oggi si sia già online dipende dai criceti naturalmente e veniamo alle notizie invece del calcio in generale quindi sia soprattutto la sfida di questa sera e stavolta non mi sbaglio a questa sera ieri ho fatto un po di confusione però è questa sera le 20 e 30 a Frosinone c'è la partita di ritorno che deciderà chi raggiungerà Empoli e Parma in Serie A cioè il Frosinone o il Palermo il Palermo o il Frosinone quindi i pronostici ieri li ho buttati lì così erano proprio buttati lì perché francamente non donò la sfera magica vedendo anche come stanno giocando le due squadre non si può sapere francamente non c'è una favorita non puoi dire passano sicuramente loro o gli altri io ho dato le mie idee vediamo quello che hanno detto i due allenatori partendo da quello della squadra di casa cioè Lungo che ha detto faremo qualcosa di diverso rispetto all'andata anche perché se fanno uguale perdono un'altra volta non diremo cosa ma cambieremo strategia e anche impianto di gioco quindi staremo a vedere che cosa si è inventato Lungo per la partita di questa sera ma veniamo invece a cosa ha detto Stellone allenatore del Palermo naturalmente è la partita della vita pronti a tutto sede che ha visto qualche film un certo film prima delle dichiarazioni proseguiamo serve equilibrio nell'attaccare nel difendere e bisogna essere bravi bene quindi staremo a vedere chi dei due festeggerà questa sera veniamo alle notizie finalmente del mercato perché so che state aspettando quelle allora qua siamo all'apoteosi perché Inter addirittura summit per Santon il rinnovo resta ancora fermo devono decidere se rinnovarli o meno il contratto come ben sapete la UEFA ha bisogno che l'Inter abbia almeno 8 giocatori che arrivano dal settore giovanile o anche più avanti dall'età però comunque e siccome purtroppo Santono fortunatamente per lui fa parte di questa piccola schiera di giocatori inseriti in questo ambito per avere qualche giocatore in più visto che abbiamo tutto bloccato dobbiamo scegliere una lista piccolina devono decidere se rinnovargli se vale la pena rinnovargli il contratto o meno veniamo ad altro parma e bologna dermo emiliano per vukovic dell'olimpiacos è un difensore un classe 1988 quindi va per i 30 anni o forse li ha già compiuti è una bella bestia perché è alto un metro e 95 centimetri è un giocatore del verona che però è in prestito in grecia quindi parma e bologna sarebbero interessati a portarlo in serie a napoli la gente di isai molto difficilmente lascerà il club azzurro quindi probabilmente isai sarà ancora il terzino del napoli non so se i tifosi napoletani saranno contenti o meno io credo di sì perché mi sembra che ha fatto un buon campionato veniamo al manchester city che ha ceduto angelino al psv e in dove vero nome josé angel esmeris tasende che è un terzino sinistro che è in prestito al nac breda quindi andrà al psv quindi passa da una squadra olandesa un'altra squadra olandesa si vede che il psv l'ha visto giocare stavolta psv e dove ha visto giocare nel campionato olandese ha detto questo è forte portiamocelo a casa atalanta cabezas verso l'argentina teoricamente andrà all'indipendiente è un atticante classe 97 alla sinistra di 182 centimetri inter offerta del legance per pinamonti hanno offerto 12 milioni martedì raiola si incontra con il presidente del genoa preziosi perché anche il genoa sarebbe molto interessato a pinamonti e attenzione che interessato a pinamonti c'è anche la roma voilà juve favilli va via in prestito se lo contenderanno il chievo la spalla e il bologna quindi altra sfida emiliano veneta sfida emiliana e tra virgolette veneta gli hanno appena rinnovato il contratto abbiamo riapprocciato famigli e invece se ne va via è un es giocatore dell'ascoli era in prestito all'ascoli è un attaccante classe 97 di 191 centimetri torino chiesto informazioni per la guvina giocatore attaccante fortissimo di cui parlava appunto il mio grandissimo collega sic world perché lui è un grandissimo io sono piccolino e diceva questo è un fenomeno e quindi giustamente le squadre medio piccole cominciano a farci un pensierino prima che arrivi il super squalo del big a portarlo via però zamparini giustamente ha rinviato ogni discussione quindi staremo a vedere cosa cosa farà il palermo perché logicamente se il palermo viene in serie a un giocatore come la gubina non lo lascia certo partire se malauguratamente dovesse rimanere in serie b magari un pensierino ce lo fanno vedremo real madrid preso rodrigo dal santos arriverà nel 2019 è un attaccante minorenne perché del 2001 compierà 18 anni il 9 gennaio dell'anno prossimo e quindi giustamente il real se l'è preso lo lascia lì tranquillo poi vediamo se lo prende a gennaio quando questo diventa maggiorenne a giugno dell'anno prossimo attenzione a sturaro perché c'è la possibilità di andare in cina e giocare nello shanghai shenwa dove se non ero gioca anche un certo guarin se non sbaglio non vorrei confondermi mi sembra che giochi lì anche guarin poveri piccioni manchester city il barcellone vuole gundogan la richiesta di 55 milioni quindi signori il city spara alto per il suo centrocampista napoli di alorenti si incontra chiesa pronta offerta da 60 milioni più cricles ottonelli o magari anche tutte e due li diamo in accoppiata però potrebbe essere anche fantamercato attenzione perché si è erano lì della zona di napoli eccetera però ci sono visti ecco per intenderci inter il parma interessato anche lui a zaniolo perché i nostri ragazzini sono tutti sotto il mirino dei club medio piccoli siccome c'è sotto anche il sassuolo come ben sapete offerta da 6 milioni però sassuolo sul sulla questione della ricompra fa un po rettiette da mercante invece il parma ha detto che accetterebbe ben volentieri la la ricompra basta che glielo diamo quindi staremo a vedere quale delle due squadre riuscirà ad accappararsi il giovane zaniolo che è un centrocampista d'attacco fantasista come non se ne trovano più giovane giovane deve dimostrare ancora tanto arsenal liverpool sfida di mercato per gelson martins che ha un attaccante portoghese classe 95 di un metro e 73 dello sport in lisbona e se non erro questo gelson martins è un piccolo sogno anche della lazio però capite che se c'è sotto arsenal e liverpool buonanotte al secchio non lo prendono più internet belle siamo le solite c'è sotto anche il napoli lo sappiamo il totten adesso ha chiesto all'inter un possibile scambio con vessino eccetera quindi l'inter ci deve pensare perché ricordiamoci che comunque vessino è intorno ai 25 anni se non sbaglio mentre invece questo intorno ai 30 non facciamo cavolate inter brozovic il siviglia è sempre interessato al croato teorico incontro dopo il mondiale sappiamo benissimo che però brozovic ha detto che vorrebbe rimanere quindi staremo a vedere milan cani vicinissimo al siviglia teoricamente ha un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni quindi per la felicità dei milanisti forse si liberano della bumbia come lo chiamano loro tra un annetto magari incassano anche 20 milioni anche perché credo che cali diciamo siviglia farà faville come ha fatto faville con dobbia quindi può farle anche lui dichiarazioni di braida su chiesa è bravo e saprà dimostrare ovunque il suo valore quindi detto da braida che è un numero uno dei procuratori eccetera che è uno che c'ha l'occhietto lungo che i giocatori li riesce a scovare fateci un pensierino la gente di sepe al napoli non può essere ostaggio del club quindi si vede che sepe se ne vuole andare via sassuolo confermato l'arrivo di ser nicola terzino della ternana purtroppo sapete benissimo la ternana è finita in lega pro giustamente molti giocatori cercano di smammè e andare o in serie b o addirittura in serie a in squadre medio piccole juve dall'interno dall'inghilterra ci sono voci che parlano di un interessamento della juventus uvan anolt terzino sinistro classe 90 di 176 centimetri del crystal palace quindi la juve visto che l'armiana è un casino quell'altro è un casino cansello un casino eccetera vediamo di portarsene a casa uno intanto anzi di portarsene loro a casa uno perché a me francamente non interessa quello che fanno loro mi girano le scatole che prendo un cansello però gli altri possono prendere chi vogliono de Gea il portiere dice no al real madrid ma resta e rinnova ecco dopo la papera di stasera mi sa che il real madrid va a cercare qualche altro giocatore perché veramente stasera ha fatto un paperone peggio di quelli che ha fatto madnessi assieme veramente un portiere come lui non può prendere un gol del genere lo andatevelo a vedere il secondo gol di ronaldo veramente è un paperone del di de Gea veramente non ci sono parole proseguiamo con il parma che è interessato al terzino del osijek baricic borna baricic cognome borna il nome è un terzino sinistro di 186 centimetri appunto croato ed è anche un classe 92 juve intesa di massima con joao cansello ecco appunto come dicevamo ingaggio intorno ai 3 milioni però c'è l'intesa col giocatore c'è però devono convincere il valencia che vuole 40 zucche e loro 40 zucche non vogliono spenderle giustamente salta vigo presa preso il regista del trazzone sport jokuzlo è un classe 94 di 191 centimetri ed è un mediano destro quindi un bello mone da mettere davanti alla difesa e vediamo chi passa con uno di 291 centimetri l'arsenal per paura di perdere sciacca gli ha fatto un bel contrattino pluriennale così lo blindano e stanno tranquilli che non arriva al solito il manchester city manchester united o celsi a portarglielo via situazione uguale alla questione cansello anche per il napoli perché sirigu l'intesa triennale c'è ma non c'è l'accordo con il torino che dice signori noi sirigu non ve lo vendiamo non ve lo cediamo ce lo teniamo noi ci pirimerlo chievo acquistato tomovic dalla fiorentina l'acquisto porterà un milioncino nelle casse della della fiorentina che globalmente tra kalinic l'altro giocatore e tomovic si porta a casa circa 26 milioni non fanno schifo è un classe 87 ha giocato per sei anni a firenze però l'ultimo anno veramente non ne potevano più ha fatto peggio di santon e quindi sono ben felici di liberarsene speriamo che nel chievo riesca a rinascere bene abbiamo concluso con le notizie del 15 giugno 2018 e ci vediamo naturalmente al prossimo video ciao